Gesù disse ai discepoli, sedetevi qui, io vado a pregare, e si fece accompagnare da Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi cominciò ad aver paura e angoscia e disse ai tre discepoli, una tristezza mortale mi opprime, fermatevi qui e state svegli. Andò un po' più avanti, si gettò a terra e si mise a pregare. Chiedeva a Dio se era possibile di evitare quel terribile momento. Diceva, padre mio, tu puoi tutto, allontana da me questo calice di dolore, però sia fatta la tua volontà, non la mia. Poi tornò dai discepoli, ma li trovò che dormivano. Allora disse a Pietro, Simone, perché dormi? Non sei riuscito a avvegliare per un'ora? State svegli e pregate per resistere nel momento della prova, perché la volontà è pronta, ma la debolezza è grande.